Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video dal YCS di Rimini dopo aver droppato ma vabbè Siamo qui in compagnia di Bonesman, metto il canale in descrizione e facciamo vedere il suo trade binder in cui vende, non lo so, vende e scambio principalmente vende ma vabbè, il canale in descrizione quindi contattate lui e non me abbiamo un settino dei draghetti, questo non lo do assolutamente che figo, ai 10 centesimi mi prendo le goled qui ho queste trade tranquillamente, questo lo tengo, il resto è da vedere di le rarità, oh son secret, questa è la prima edizione americana, questa è ultra poi i mistake non le do, è ovvio, non le do, cioè volendo faccio cambio rarità ma valuto 15 luna, non penso di Davide, volendo questo sia il resto do tutto, non la do assolutamente, ce l'ho da 10 anni do tutto tranne cast, no non è necrot, sono cartine necrot a caso, cast che non do oh lì ho visto il rituale, ma la coda che posso dare tranquillamente è la base di Usenju ma sono in mezzo, garcardi e roba quante le vuole, meglio che non la citiamo le queste le vuole Faux quindi non so quante le ho, per quanto ho letto ancora genapure, ninao, sono tutti secret, mint, qui c'è necrot completo, un americano un Ciotr e Brionac, un americano, magari lo mettono a 3, ce l'ho 3, certo, trisciule trisciule, queste ce ne sono 3, ce ne sono 3, super ovviamente, se li volete da 2 terminal al 25.1, 8 cadenti, sì, sti cazzi, trovatevele dal mega team, risco l'habit americano ragazzi cioè è fantastico, è del 2012, è grandioso, under King Segal, magari, il token dell'ICS non lo do, me l'hanno chiesto tutti, non so perché, perché c'è una paio di cartate, questo non è mint, lo valuto 10, approfittate nel giocabile, sì, Rai Jacky non lo do neanche dal call, lo vuole Nath, poi abbiamo queste che non do assolutamente, poi un XC, poi sta nobaccia qua che posso dare tranquillamente tutta, tutti i monti Ice, nessuno, non ce l'ho venduto tutti i miei JD, nobamaster, japp, questo è japp, senza censura, c'è la croce al posto della lapide, il mio compagno di team mi gioca questo, sì, c'è uno, uno, non li do, questa volendo la posso dare, mi prendo anche la terza americana, questa roba, c'è che posso dare, questo è tagliato qua, è tagliato, sì, è tagliato, bimbi di merda però, è giocabile, non è che staccate dall'extra, qui do tutto a parte dei due downerd, di sta pagina dico, volendo, cioè do questi due, questo qua no perché è l'unico mint che c'è, nobamaster, questi sono altri miti tu sto? Sì, non li do, questi tre non li do assolutamente, mi servono per il mazzo, dweller se ne è un altro forse lo posso dare, ma io ce l'avevo già un gagaga, ho preso un altro gagaga in mentine, vabbè, questi cazzo, no, un dweller lo posso dare, questa roba non la do, neanche loro, c'è, stiamo avanti così, non li do, questa roba posso dare un truttatino a trisciula, trisciula non la do, l'ho appena comprata, brio na kniank, è bello, è bello, è vero, le ho pure io da, e questo è americano, questi nelle scie, ammirate, tornata uno, doveva accadere, non lo do, questi qua sono il settino di Shepter, ho venduto alla Sovereignia, inizio 15, se vedete che più o meno conosco già l'album è perché su tipo 2-3 giorni che stiamo insieme, vabbè, non tra intendete, no, 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 non le do, cioè, volendo le mie Rossi, voi chiedete, questa è Run Cup, si, 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 Do tutto Ultra e? Paral, no Star Toil Gold e super Due gold e super Comuni, super Non lo do Tra cali ci do solo il set completo Di ultra quanto li fanno? Non lo so Stamattina avevo controllato un euro Non li do questi qua Questo il resto si Non li do Posso dare tutto Qui dietro non so come ci sia Ah c'è questa Valla a vendere lì Un euro Non li do questi tre Lo shooting che avete appena visto Virgilio questo lo posso dare Posso dare praticamente tutto Giga brillante Eh eh Poi abbiamo tipo Ah no Dopo devo dare queste a No queste qua non vedete le devo darle ai due listi Anche queste giusto Cazzo Dopo andiamo a cercarli I decreti non li do Questo posso dar tutto E qua abbiamo Oddio Vabbè vai E non do niente Praticamente volendo il tt E basta E vabbè Allora il canale è in descrizione Se siete interessati Andate a chiedere messaggio privato Commento non penso Perché non c'è il video Non guardi commento Ecco messaggio privato E niente lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Al suo Soprattutto che deve crescere Esatto E niente arrivederci A presto A presto A presto A presto